Ciao a tutti fringuelli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di pneumatici, lo facciamo inaugurando una nuova playlist dal titolo Guerra dei Pneumatici. Andremo a trattare una volta alla settimana, una volta nei 15 giorni, quelle che sono tutte le scelte che il mercato delle case produttrici dei pneumatici per biciclette ci offre. Vi assicuro che sono tante, perché ci sono anche moltissime differenze all'interno di ogni singola casa. Beh, oggi iniziamo con Pirelli, questo marchio italiano conosciuto in tutto il mondo per la fornitura di gomme alle macchine di Formula 1, ma che dal 2017 ha deciso di entrare anche nel settore delle biciclette con i P0 Velo. Nel 2018 la Pirelli lancia nel mercato delle biciclette da corsa il primo tubeless ready, il cinturato Velo TLR, dove TLR, impareremo che in casa Pirelli, sta a significare tubeless ready. Tutto bene, tutto bello, però in casa Pirelli manca un pneumatico da corsa, un pneumatico da competizione. Ecco allora che per colmare questa lacuna Pirelli inaugura questa stagione delle competizioni su biciclette da corsa con il P0 Velo Race TLR, tubeless ready, e il P0 Velo Race TLR SL. Sono molto simili questi due pneumatici, oggi ci occuperemo soltanto del P0 Velo Race TLR, che a differenza del P0 Velo Race TLR SL è un pneumatico diciamo meno estremo. Il P0 Velo Race TLR, a differenza del P0 Velo Race TLR SL, ha una fascia antiforatura chiamata Tech Wall più Road che in sostanza lo rende fruibile davvero tutti i giorni su strada, sacrificandosi un po' di peso, sacrificando un po' di resistenza al rotolamento, ma garantendo comunque alte prestazioni e soprattutto una buonissima resistenza alla foratura. Il P0 Velo Race TLR pesa 270 grammi, si arriva a 287 grammi con l'inserimento della valvola per il gonfiaggio del pneumatico. Diamo adesso un po' di numeri, dimensioni 28 pollici, larghezza del battistrada 26 pollici, spessore del battistrada 3 mm, spessore del fianco della spalla 1.1 mm, resistenza al rotolamento con un carico medio di 42,5 kg a una velocità media di 29 km orari, con una pressione di 120 PC ovvero 8,3 bar e di soli 11,7 Watt. Bene, a questo punto abbiamo un sacco di dati, un sacco di numeri per valutare questo pneumatico. Il suo voto in una scala che va da 0 a 5 è 4,5, è un pneumatico molto ma molto competitivo, infatti siamo quasi al vertice della classifica ed è un pneumatico che è migliore rispetto al Continental Grand Prix 5000 TL in tutti i campi se non quello della resistenza al rotolamento. Le caratteristiche principali di questo pneumatico sono l'altissima resistenza alla foratura che lo rende probabilmente uno dei pneumatici migliori da questo punto di vista. Nel suo complesso comunque è un pneumatico di alta gamma. Bene ragazzi per oggi direi che è tutto, fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buonanamente alla prossima, ciao!